Difficile riassumere in poche parole il lungo e articolato intervento del ministro Patrizio Bianchi davanti alle commissioni cultura riunite di Camera e Senato. Il ministro infatti ha passato in rassegna le numerose criticità del sistema scolastico, cercando di fornire per ciascuna una risposta credibile ma soprattutto praticabile. La parte del discorso su cui si è concentrato l'interesse degli osservatori è quella relativa al tema del reclutamento e del precariato. Bianchi ha sottolineato che è ormai indispensabile definire con precisione le procedure concorsuali da utilizzare a regime per l'immissione in ruolo del personale scolastico, in particolare dei docenti. E' tornato anche sul tema della valorizzazione del personale docente parlando di iniziative formative collegate alle progressioni di carriera che dovrebbero essere coordinate e monitorate da una vera e propria scuola nazionale di alta formazione. Proprio ai temi del precariato e del reclutamento docenti sono dedicati gli interventi di alcuni politici che hanno commentato le parole del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi. Rossano Sasso, sottosegretario all'istruzione in quota Lega, si dice soddisfatto dato che ha ravveduto nelle parole del ministro tutta l'intenzione di stabilizzare i precari magari con una procedura veloce per soli titoli come auspica Mario Pittoni, responsabile scuola della Lega. Ha affermato infatti Rossano Sasso dichiarazioni che segnano una netta discontinuità con il recente passato quelle del ministro. Centinaia di migliaia di docenti che quotidianamente assicurano il regolare svolgimento delle lezioni scolastiche aspettano da anni una soluzione dignitosa e la fine di uno stato di cose che ha portato l'Italia a subire diverse procedure di infrazione da parte dell'Unione Europea. Appare invece irritata la ex ministra dell'istruzione Lucia Azzolina che nella giornata in cui il ministro Bianchi ha presentato le proprie linee programmatiche è intervenuta sull'Huffington Post per chiarire che non è tutta farina del sacco del ministro Bianchi o del presidente Draghi quanto si sta facendo in tema di scuola. Dichiara infatti la ex ministra grazie agli investimenti, alle risorse, agli strumenti messi in campo dal governo precedente la scuola ha riacquistato un po' di centralità che non va dispersa. In quest'ottica si è mosso il governo Conte 2 sia in legge di bilancio 2021 sia nella predisposizione del piano nazionale di ripresa e resilienza. I contenuti del capitolo istruzione, afferma la ministra, sono stati mantenuti tali e quali nella versione predisposta dal governo Draghi visto l'apprezzamento ottenuto dalla commissione UE. Il ministro poi non ha dimenticato di riproporre l'esigenza di avere un testo unico delle leggi sulla scuola. Obiettivo che per la verità tutti i governi si pongono da almeno 15 anni senza però essere mai riusciti ad andare al di là delle buone intenzioni. Sulla necessità di ridurre il numero degli alunni per classe il ministro non è entrato nel merito più di tanto ma ha spiegato che il recovery plan prevede una vera e propria riforma del sistema scolastico in modo da individuare soluzioni organizzative e didattiche più efficaci e funzionali. Ha parlato di gruppi flessibili di apprendimento e di personalizzazione dei percorsi. La soluzione in sostanza potrebbe essere quella di rivedere il modello organizzativo a partire dalla possibilità che gli organici vengano definiti non tanto con riferimento alle classi quanto piuttosto al numero complessivo di alunni. Il tema è ampio e anche molto attuale quindi ci torneremo sicuramente per cui continuate a seguirci su questo canale ma anche nel nostro portale www.tecnicadellascuola.it scriveteci mandateci le vostre osservazioni i vostri commenti noi ne daremo conto come di consueto. Grazie a tutti.